Ordine del giorno sui parchi di Nervi, che cosa chiedete all'assessore competente? Sì, un ordine del giorno al bilancio comunale di previsione perché dopo nove mesi dalla manifestazione che ha caratterizzato il quartiere di Nervi, i parchi di Nervi che ha caratterizzato la città certamente con una grande attrattiva e di questo siamo felici, però i parchi di Nervi che sono un parco storico hanno il manto erboso che non è ancora ricresciuto così come era stato promesso, non solo era stato promesso che il manto erboso sarebbe stato ripristinato come era in origine ma anzi sarebbe migliorato, certamente una manifestazione che ha arricchito con i fiori un quartiere e la città non può lasciare una traccia pesante e un danno all'interno di un parco soprattutto un parco storico e un parco che è attrattiva per i genovesi ma anche sappiamo per chi viene a far visita nella nostra città. Nervi è un quartiere importante di attrazione per Genova e vogliamo che torni ad avere i fasti e quindi a nove mesi di distanza da quella manifestazione purtroppo il manto erboso non è stato ripristinato e chiediamo che siano approntati i denari perché questo ripristino possa avvenire.